ok continuiamo facciamo nome di guerra di sfuggire le bombe di fuggire i nemici vabbè questa è una cosa tipo quella delle palle sono sempre delle palle appunto vabbè attenzione voi fuggire lo so aiuto per scendere un po' di roba qui ah i ragnetti non c'è i miei ragnetti non va bene non va bene ecco che è arrivato la bomba qui sopra casca più palle dell'ordine dell'ostitore di blocchio a un stitore a posto c'è guarda quanto vedo questi io già so io c'è un'archia due in l'altra archia c'è poi meno meno terreno su cui camminare golem aiuto golem non 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 tocco conto delle ondate non farò diventare invincibili così facilmente c'è c'è un altro golem guardi golem ci sono qui vabbè 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 per ammazzare golem non è che mi servono me che ho anche di vedere ho toccato che vediamo un grosso verde enorme ah ce l'ho fatta 900 un bacconcino un bacconcino ok no perché c'è poi lei vai 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 caduta rovinosa e neveci sono parlate dagli scudi fatti cadere dai blocchi per sconfiggerli perfetto proprio mancavano invincibilità in realtà che non riesco a iniziare magari poi incandarli se questa volta ripasso con la ticamera il cervello che posso farli precipitare si mi viene fate scendere le mattonelle ecco grazie hai parlato adesso devo sperare che trovi il pavimento prima non lo speravo nessuno ne ha sperato giù tuffa in acqua che schifo siamo sicuri che è acqua ok ok guardi qua sta comunque fermo e vai oddio siamo leggermente più più strette adesso vabbè sapevo io che niente e poi guarda che il capo si tiene con le mattonelle quelle proprio estreme sempre giù e faccio lo scuso che c'è accanto eeeh 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 livello 2 questa volta ho letto bene solo perché erano già i pugilatori non lo so io non si dice neanche non si dice mai così tutta la vita pugilatori però fateli cascare madonna mia questo devo cadere da te un classico di mio che sta cadendo da te o signori e signori guarda casca da te o proprio ma ci aspettiamo addio uuuu uuuu tutti giù vai un bagno dai 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 nooooo Nooo la pioia un po' qui C'è perchè casca dolpe o? Non so cavolo che stavo cadendo ma per questo è casca dolpe Di dolpe o un altro non posso essere super piccolo Ma poi c'è un colpo! Voleee Livello 3 no, mi vale Grazie Mi sento più strano questa parte E' venuto un po' giù E' venuto un po' giù Questo è caduto da solo E' morto da solo Il secondo elemento è tutta la mente che vedo morire da solo Giù 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 Va bene Allora vi aveva cascato sempre dal peore mi raccomando Si carico put Sembra che facci il pezzo di quando si trara Ma Peccato che il raggio sia Verso il Di là e non giù Sarebbe stata una cosa più fisica senza senso E vai ancora 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 Grazie voglio fare anche le sfide di Ehm Di canali vai Perdite i te che il liberamento della gana si sta stringendo Le stringendo Stringendo Che parano Fate solo del blocchio che cadono Lo sa 14 21 Via partners Via c'è un piccio via allora attenzione devo fare attenzione più che altro oltre a morire per i nemici più che altro a cascare davvero vabbè mi va stare figliore a che non cascare davvero aiuto c'è un po' 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 è un po' un po' un po'